La chiusura in attivo del bilancio Sasi con 34.000 euro non convince l'EPDL, che chiede le dimissioni del nuovo CDA, denunciando alla stampa una gestione cieca e irresponsabile. Sono le parole usate dal senatore Fabrizio Di Stefano, che elenca una serie di irregolarità nell'amministrazione dell'ex consorzio acquedottistico del Chietino. In realtà, dice il vice coordinatore regionale dell'EPDL, la Sasi ha un'esposizione debitoria sommaria di 13 milioni di euro. E nonostante un corposo organico, continua ad assumere, a chiamata diretta, 10 operai, con il sospetto di clientelismo da parte del centro-sinistra, attività antisindacale, mancata manutenzione straordinaria, omessa certificazione di bilanci e aumento delle tariffe idriche. Di Stefano poi menziona le diverse cause pendenti in tribunale. Alla Sasi, dicono i periti, ha omesso l'ammortamento dei beni ISI, alla Sasi viene contestato l'incremento tariffario, alla Sasi viene contestata la consenza del fondo di svalutazione, viene contestata l'ammessa certificata di bilanci Sasi da parte di società di revisione. Contestano diverse cose, altre non gliele possono contestare perché si sono rifiutati di fornire tutte le documentazioni. Di fallimento gestionale parla anche l'ex sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, per anni presidente dell'Assemblea dei Sindaci Soci e che negli ultimi anni si è sempre rifiutato di approvare i bilanci Sasi. Sul piatto, dice, ci sono i cosiddetti costi sociali. Noi abbiamo fatto un decreto ingiuntivo opposto contro la Sasi, perché la Sasi ci deve dei soldi quando passiamo tutti i servizi per i mutui e per il personale. In quella sede la Sasi si è opposta dicendo che noi siamo debitore nei comuni della Sasi per i costi sociali. Allora approvare oggi un bilancio qualsiasi significerebbe riconoscere che noi siamo debitore nei comuni della Sasi. Ecco perché io non ho mai approvato il bilancio della Sasi. Mia non era una scelta politica, ma una scelta tecnico-giuridica perché avevamo in campo delle opposizioni. Un'ultima considerazione, su certe forze sindacali, se quello che sta succedendo oggi dentro la Sasi in termini di gestione personale fosse accaduto con la guida di centrodestra, ci sarebbero state le barricate e chi era presidente avrebbe avuto serie difficoltà a uscire di casa. Lo fa il centrosinistra e la CGL vergognosamente tace. Grazie a tutti.